ciao sono giovanni arduini titolare dell'arte riposo ditta di materassi è un po di tempo che collaboro con rossini tv per le mie campagne visitarie mi sono trovato veramente bene ho avuto bene discontri e lo staff è veramente tecnico preparato mi ha saputo consigliare bene consiglio rossini tv l'arte del riposo dormire bene e sentirsi bene grazie a tutti